I prati, il mare, gli aperitivi, i caffè, la discoteca, ti mancano? Non ti preoccupare! Mentre sei a casa potresti fare qualche attività o qualche cosa che ti proponiamo adesso! Potremmo passare del tempo con i nostri piccoli amici a quattro zampe che solitamente passano molte ore da soli. Potreste darvi all'arte? Allora io in questo tempo stando a casa mi lavo molto più spesso finalmente, ho imparato a mettermi lo smalto che sono anni che ci provo, sono anni, e niente mi sto cimentando anche un po' di più nella cucina insieme a mia madre, quindi... bello! Poi voglio dire, a casa ci sono tantissime cose da fare, io per esempio sto sistemando l'armadio, bellissimo eh, non vedevo l'ora di sistemare l'armadio, davvero, però va fatto! Ciao ragazzi, in questi giorni in cui siamo a casa potremmo aiutare le nostre famiglie a fare dei piccoli lavoretti, io ad esempio sto sistemando i vestiti, ciao! In questi giorni di quarantena potresti imparare le basi del videomaking, in che senso scusa? Potresti per esempio imparare a fare un sacco di video stupidi, ma ancora non ci sono. Ciao! Ho il potere del teletrasporto! Io ho usato il mio tempo in quarantena per far finta di imparare a suonare la mia chitarra, dove ho imparato a fare... e poi so fare anche... e poi dopo tanto esercizio ho imparato a fare... e poi ho fatto una crostatata. Provateci anche voi! Ho fatto un giro in Andorra! Yolele!